Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Colcia Black realizzata da Sena Cases. Come potete apprezzare abbiamo una forma a mo' di bustina, infatti il telefono spunta nella parte superiore, come potete apprezzare, così da gestire per esempio facilmente l'inserimento delle cuffie senza per esempio ricevere interferenza dalla busta stessa. Nella parte in alto di questa bustina dedicata ad iPhone 4 4S c'è il moschettone realizzato in metallo che vi permette in pratica di gestire un eventuale aggancio al pantalone, per esempio al passante dei jeans o perché no, vista l'eleganza della soluzione, anche a quelli di un vestito. Infatti l'insieme diciamo si accosta comunque molto bene a eventuali pantaloni con il taglio della tasca America, visto che normalmente questa soluzione è dedicata appunto al taglio sartoriale un attimino più elegante rispetto alla tradizionale tasca orizzontale dedicata soprattutto e diffusa nell'ambito jeans. C'è comunque la possibilità di afferrare anche la parte superiore, così appunto da tirare ed estrarre con facilità il telefono. Come tutti i prodotti Sena Cases, anche in questo caso parliamo di pellami italiani, vediamo ora di farvi vedere il dettaglio anche della pelle, sono pellami italiani lavorati negli usa, voi potete tranquillamente procedere all'acquisto del prodotto, come vedete lo stesso è assolutamente cedevole, spero si riesca tranquillamente ad apprezzare anche a video, come vedete io posso quindi avere una morbidezza sull'intera superficie che è decisamente piacevole anche al tatto. Come potete poi apprezzare, l'insieme diventa decisamente utilizzabile anche poi per la pulizia delle cuciture che sono assolutamente di rilievo su tutto il telefono. Per quanto riguarda l'estrazione, come vedete abbiamo a questo punto la possibilità di gestire il nostro telefono, semplicemente tirando la linguetta, così appunto da procedere all'utilizzo dello stesso senza problemi, in questo modo quindi noi possiamo estrarre il telefono, possiamo quindi afferrarlo in questo modo ed estrarlo agevolmente dalla confezione. Vediamo ora di farvelo vedere, vedete che se ne esce con decisa facilità. E' ovvio che la custodia poi possa essere tranquillamente utilizzata anche con tasche jeans, quindi diciamo quelle più grezze da usarsi nel quotidiano, perché appunto rispetto per esempio a un pantalone in cotone, in lana, diventano un attimino più aggressive dal punto di vista del materiale. Come vedete non ci sono particolari segni grafici, quindi il tutto è davvero utilizzabile con ottima facilità. La compattezza ve l'abbiamo comunque mostrata anche nella galleria fotografica, il prodotto in questione è comunque semplice, quindi la recensione è assolutamente agli sgoccioli, noi promuoviamo questo prodotto perché è veramente, veramente fatto bene. Parliamo, ripeto, di pellami italiani lavorati negli USA, voi potete tranquillamente procedere all'acquisto utilizzando il sito di Sena Cases e troverete come potrete anche vedere modelli e colori diversi da questo appunto classico nero a forma di bustina. Ci sono anche per altri dispositivi, quindi sicuramente se avete qualcos'altro e non sopportate l'iPhone, non l'avete comprato, non ve l'hanno regalato, insomma troverete probabilmente qualcosa di vostro interesse. Tra tutte le cover che abbiamo analizzato ad oggi, secondo me questa rasenta quasi la perfezione, diciamo. Il perché è decisamente semplice da spiegare, parliamo di materiali di assoluta qualità e parliamo quindi di una chicca dedicata al melafonino, sicuramente ricca anche dal punto di vista del lusso. Parliamo di una quarantina di euro come spesa, quindi non stiamo parlando di centinaia di euro di spesa per portarsi a casa una cover dedicata al melafonino, sicuramente poi ci sono anche soluzioni con pelle ancora più pregiata, dedicata per esempio ai tablet o al contenimento di notebook, netbook, ultrabook. In ogni caso noi questo volevamo mostrarvi e quindi questo procediamo a compiere come recensione, unboxing in gallerie fotografiche. Vediamo se con Senacases risulta poi possibile procedere a mostrarvi qualcos'altro così appunto da aumentare la visibilità del marchio Station Italia che ho scoperto non essere particolarmente noto. Al momento l'unico modo comunque per acquistare questo tipo di cover è rivolgersi al sito americano, vi arriva attraverso un pacco di FedEx Express, quindi gli arriva diciamo in una settimana circa, è assolutamente affidabile proprio perché poi il pacco è anche tracciabile. La demo è conclusa, io spero vi sia stata utile, spero sia apprezzata anche da voi, io quindi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siano su Twitter, Facebook, YouTube Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.